sempre sempre in movimento con nuovi video un video qua un video la e allora oggi facciamo un altro bellissimo video il linguaggio perché faccio i video in doppia lingua sia italiano che in inglese sui metalletetto perché perché promuovendo tutte le marche di metalletetto ci sono quelle super conosciute che promuovono in di più distributori ma ci sono anche quelle delle marche che sono un po meno conosciute ma che stanno diventando conosciutissime tra l'altro guardate questo bellissimo gm 7 che dagli ultimi sei anni che cominciò la nuova serie gm 5 se con nuovo processore andando dal gm 6 e arrivando al gm 7 questo sta diventando uno dei metalletetto già più conosciuti e sono molto soddisfatto perché vedo tanti clienti cercatori contenti anche questo piratonex col suo collega piratone a polonia sta prendendo bene il mercato e facendo anche qualche video dal vero prestazioni divulgazione dimostrazioni di prestazioni dal vero e danno conferma anche chi l'ha comprati sono contentissimi e allora le richieste ci sono comunque anche specialmente li faccio perché in doppia lingua anche in inglese perché voglio divulgare questi bellissimi metalletetto anche all'estero esempio gold mask pirate desert gold che magari sono abbastanza conosciuti qui in italia perché li ho aiutati io a fare una bellissima promozione e sono confermati essere quello che dicevo ottime marche ottimi modelli potenti sensibili stabilissimi regolati bene sono stabili lavorano bene trovano monete oggetti militari in profondità magari prezzo qualità prestazione sono anche fra i migliori del mercato specialmente come prezzo specialmente perché i produttori bulgari questi sono tutti i produttori bulgari ci lasciano la libertà di fare i prezzi che ci pare bassi che ci pare e lo sapete che io sono proprio entrato e ho sfondato nel mercato da questi circa 30 anni di rivendita perché ho sempre fatto dall'inizio di prezzi bassi meglio che potevo ovvio che dovevo fare un minimo di guadagno per mandare avanti la ditta per pagare le tasse il commercialista e quant'altro l'inps tutti vogliono dei soldi qui non si squando uno c'è una ditta tutti vogliono dei soldi lo stato con le tasse l'inps quei contributi in perché dopo un domani forse te li danno indietro quando andrai in pensione quando ci arriverai con la zanetta poi dopo il commercialista anche lui è lì registra di qua registra di là e ti chiedi soldi mandi qua mandi qua e allora pagando per dover pagare tutti questi signori ovvio che un minimo di guadagno ci deve essere però comunque si fa sempre il prezzo più basso che si può e allora con la nostra libertà di fare i prezzi bassi vedo che tanti clienti sono contentissimi e continuiamo con questa con questo discorso con questo lavoro di prezzi bassi e promozione hai capito io non spendo soldi in pubblicità così faccio ancora i prezzi più bassi a tutti quelli che guardano qua tutti i video hai capito e vedo che funziona perché passa la voce di qua passa la voce di là arrivano i clienti uno ogni tanto 12 di qua 12 al giorno e avanti coi carri pertanto facendo questi video sia in inglese che in italiano ovviamente anche facendoli in inglese sto cercando di dare più popolarità a questi strumenti perché meritano come il prezzo qualità potenza come ho ripetuto prima diciamo che e prestazioni specialmente sono fra i più avanzati e anche diciamo queste marche che risultano essere un pelino un po più indietro diciamo un po più sconosciute stanno venendo su molto bene addirittura qualcuno dice dei nostri clienti ma non solo qualcuno anche più di uno che ormai sono meglio questi a parità di prezzo a parità di prezzo sono meglio questi che di tanti altri modelli e allora continuiamo a fare i video sia in italiano sia in inglese perché vedo che anche in lingua inglese ci sono tantissimi clienti tantissimi clienti non è che siano tantissimi quelli che vedono sti video dalle aree più disparate ovvio che se c'è in america ci sono dei rivenditori ogni 50 100 metri in europa è sempre piena di rivenditori in tutti i canti ma ci sono magari posti del del globo della terra che dei rivenditori ce n'è uno ogni mille chilometri e allora se vedono questi video sono informativi sono informativi io li faccio sia delle marche un po meno popolari e sia delle marche più popolari così sono informati di tutti quanti questi metal detector novità e aggiornamenti e test tutto quanto così possono fare le ordinazioni anche dall'estero nelle zone che non trovano rivenditori locali bene ragazzi allora ovvio che se avete i vostri amici che interessano dei metal detector qui in italia o magari ne avete anche all'estero noi spediamo anche all'estero in tutta europe in tutto il mondo gli dice di guardare il sito che eccolo qua metalldetector24.com hai capito che qui trovate tutti i prezzi speciali glielo dite guarda che qua stefanone l'italiano fa dei prezzi speciali sul sito metalldetector24.com ci sono tutte le migliori marche ci sono dalla dalla garret dalla Minelab dalla Ciscope dalla Pirate dalla Golden Mask dalla Rutus dalla Mars poi cosa c'è ancora dalla Minelab Rutus la Mars la Galaciscope la Diptec ci sono tutte tutte le migliori marche ci sono basta che ci guardate quelle che non ci sono me lo chiedete e vediamo di mandarvi anche quelle sempre al solito come al solito a prezzi buoni e allora passatevi la voce fra tutta la vostra squadra fra tutti i vostri amici che sapete che io faccio tutti i prezzi per tutti voi altri prezzi molto felici così dopo col mio con la mia tecnologia la di non fare pubblicità ma fare gli esters conti ai clienti prezzi buoni hai capito dopo vi faccio anche contenti ciao a tutti